Lo scorso weekend c'è soltanto stato un evento in programma nelle principali categorie motoristiche e in particolare parliamo del campionato mondiale Superbike che ha visto a Manicur la sua settima tappa di questo mondiale 2020 ridotto causa Covid Un mondiale 2020 che poteva chiudersi già a Manicur e così non è stato perché tecnicamente la matematica tiene ancora in vita il duello tra Jonathan Ray e Scott Redding il nord irlandese è comunque favorito e probabilmente chiuderà la partita a Estoril tra due settimane però il nord irlandese Jonathan Ray non fa come l'anno scorso chiudendo il mondiale in Francia Al termine di tre competizioni che gli sono svolte sotto diluvio il nord irlandese Jonathan Ray vince la gara numero 98 e 99 della carriera lascia la terza diciamo a Scott Redding che in realtà la vince con pieno merito e questa vittoria di Scott Redding di fatto tiene aperto seppur solo matematicamente il campionato del mondo Ma ancora una volta il protagonista della Superbike è il cannibale Jonathan Ray sotto l'acqua e nelle condizioni di asciutto comunque è il pilota da battere è il pilota che si aggiudicherà verosimilmente il sesso titolo consecutivo in questa categoria ed è stato un pilota che ha dimostrato veramente di essere ancora una volta superiore E gara 1 nell'esempio lampante gara 1 è stata vinta dominata da Ray che ha approfittato anche dei due ducati ufficiali veramente ridotte male sotto l'acqua in particolare Scott Redding poi lo vedremo con la classifica del campionato ha fatto molta fatica in quanto non aveva preso molta confidenza con le gomme Rain della Pirelli Quindi Ray invece è abituato intanto alla pista e innanzitutto anche a queste condizioni e di conseguenza in gara 1 ha fatto letteralmente quello che voleva Le Ducati per la verità sono migliorate pian piano nel corso del weekend hanno preso un po' le misure in gara sprint che l'ha vinta sempre Jonathan Ray e le due vittorie appunto di gara 1 e gara 3 Scusatemi, le gara 2 ovviamente vanno a aggiungere le vittorie numero 98 e 99 della carriera del nord irlandese nella gara 3 o la gara 2 comunque la gara lunga della domenica pomeriggi invece cambia lo scenario perché ancora una volta le condizioni sono bagnate ma cambia il vincitore come dicevo in apertura E' Scott Redding su Ducati ufficiale che vediamo alla destra dell'immagine a vincere nel circuito francese alla terza gara della carriera di fatto sul ex circuito che ha ospitato la formula 1 fino al 2006 Una Ducati che ripeto è partita malissimo in gara 1 ed è arrivata via migliorandosi fino al primo e al terzo posto in gara 2 quella della domenica pomeriggio Con Redding che appunto approfitta di una confidenza trovata nel corso del weekend e di fatto ha dominato questa gara dall'inizio alla fine andando a tenere aperto seppur solo per via matematica il campionato del mondo Terzo un Chad Davis che comunque andrà via dalla Ducati ufficiale verosimilmente il prossimo anno però è ancora una volta il terzo nella classifica mondiale Segno che comunque anche se sta invecchiando il talento di certo non lo perdi e come ho detto nel video scorso il pilota gallese ci sta tranquillamente anche nella superbike del prossimo anno del 2021 Con queste tre competizioni dunque rimangono soltanto tre gare ulteriori per decretare la conclusione del campionato del mondo superbike 2020 E saranno le ultime gare di Esturil che di fatto verosimilmente consegneranno il sesto titolo del mondo consecutivo al cannibale Jonathan Ray che non ha chiuso qui a Manicur Vediamo anche gli altri piazzamenti vedendo anche i podi delle rispettive gare perché ci sono dei premi dei rider del giorno da assegnare e di approfondire anche alcuni aspetti di alcune case motoristiche Ray appunto vince gara 1 il podio lo completano Loris Bass su la Yamaha clienti del team Tenkate e il pilota francese fa una gran bella figura nella gara di casa Segno che in queste condizioni col bagnato e quelle temperature fredde il pilota transalpino si esalta tantissimo Le Kawasaki fanno tantissimo il loro anche per le altre posizioni del podio perché Alex Loos fa terza posizione in gara 1 E addirittura nella gara sprint va a completare una doppietta Kawasaki dietro a Jonathan Ray per cui per due volte ha suonato Gap Save the Queen Terza posizione per Michael van der Mark che fa una grande impresa di fatto battendo Scott Redding in volata L'inglese e l'olandese si danno battaglia fino alla staccata del liceo e fino all'ultima chicane con van der Mark che ha la meglio in un duello rusticano quasi Tra i due mentre le due Kawasaki se ne erano prese andate via L'olandese fa terzo gardino del podio e di fatto si avvicina anche lui alla conclusione del suo contratto con la Yamaha Considerato che l'anno prossimo l'olandese volante andrà in BMW al posto di Sykes E della BMW ne parleremo dopo aver visto il podio di gara 2 dove appunto vince Scott Redding Anche per lui suonato Gap Save the Queen Loris Batz recupera e rifà il podio che ha fatto nella gara del sabato Altro secondo posto per il pilota transalpino veramente in palla in questa pista E terza posizione per Chad Davis come visto dall'immagine e il fatto che Jonathan Ray sia arrivato quarto E' l'unico motivo per cui ancora il mondiale matematicamente si chiuderà solo all'ultima gara a Estoril Per quanto riguarda le altre case abbiamo parlato prima di BMW La BMW è una grandissima delusione per quanto riguarda la superbike di questa gara Quanto meno perché addirittura in qualificazione entrambe le squadre del team Motorrad erano prima e seconda Dopo appunto le prove e non hanno raccolto assolutamente niente In particolare in gara 1 il più grosso rimpianto è aver fatto un incidente che ha coinvolto sia Laverty che Sykes Per colpa di Garrett Gerloff, pilota statunitense della Yamaha Che ha fatto un'intrata un po' avventurosa in curva 1 e li ha di fatto esclusi dalla competizione La pole è andata addirittura a Eugene Laverty che poteva riscattarsi E invece raccoglie soltanto due punti in tre gare per un pilota che purtroppo al momento è ancora a piedi per l'anno prossimo Ci sono anche delle delusioni in realtà in questo Gran Premio di Francia della superbike E il primo che mi viene in mente è lui, Toprak Razgatioglu Che sul bagnato non ha dimostrato di avere lo stesso passo che sull'asciutto in generale È in generale un Razgatioglu che si è un po' spento nella seconda parte del campionato da Aragon Non ha più effettuato podi e non è neanche lontanamente apparente di quel Toprak Che nelle prime competizioni faceva podi a ripetizione Yamaha ha investito su di lui e infatti è stato lui il prescelto e il confermato nella casa ufficiale Però bisognerà vedere quale sarà l'andazzo e chiudere una stagione al ribasso Di certo non è un buon viatico in vista dell'anno prossimo Prenditi sugli italiani perché comunque ce n'erano in questa competizione Michael Rinaldi fa doppio settimo posto e sesto a dimostrazione di un campionato comunque costante Per un di fatto semi esordiente assoluto Federico Caricasulo fa due volte undicesima posizione nelle gare lunghe E si ritira purtroppo in gara sprint C'è stato comunque ancora una volta la competizione di Samuele Cavalieri Terzo italiano in gara che purtroppo è ancora fuori dalla zona punti Per una Ducati del team Barney che quest'anno tra l'infortunio di Chemier, la disavventura di Melandri E appunto il giovane Cavalieri che anche lui è un esordiente Ha diciamo fallito un po' questa stagione Una stagione che comunque probabilmente vedrà Cavalieri anche l'anno prossimo sul team Barney A seguito di questo percorso di crescita C'è però da assegnare intanto i rider del giorno Perché per ogni gara è giusto premiare un rider della Superbike E i premi li do a questi piloti In particolare voglio premiare lui, Leon Aslam Perché è vero, ha racimolato soltanto un tredicesimo posto nella gara 2 Ma il ritiro che ha effettuato in gara 1 è figlio di una grande caparbietà E una grande voglia di aggiudicarsi le prime posizioni Tra l'altro oggi Aslam è stato nettamente superiore a Bautista Secondo me questa è la gara che gli consentirà di tornare in Superbike anche il prossimo anno Aslam poteva ambire secondo me facilmente a una quinta posizione al termine di gara 1 E invece purtroppo una caduta alla staccata della Imola Purtroppo domanda per le terre E poche troche deve accontentarci purtroppo di pochi punti Però mi ha fatto molto divertire vedere Leon Aslam competitivo Ancora una volta come non dico ai tempi d'oro Però anche a 36 anni il pilota inglese dimostra avere ancora una volta il talento Il rider del giorno è comunque sicuramente Jonathan Ray Perché si avvicina sempre di più all'appuntamento con la storia Non solo al sesto titolo del mondo ma a Astor Hill Può raggiungere le 100 vittorie in carriera in Superbike Traguardo evidentemente mai raggiunto E ovviamente 100 vittorie consaccherebbero ancora una volta di più questo pilota Nella leggenda di questa disciplina Ultimo rider del giorno ovviamente non può che essere Loris Butz Perché con una Yamaha del team Tenkat e quindi clienti Fare due podi di certo non è cosa da tutti i giorni Peraltro battendo nella gara 2 Jonathan Ray Che appunto è tutto fuorché un pilota scarso Loris Butz sul traccetto di casa dimostra ancora una volta di saperci fare E in condizioni da bagnato veramente è un pilota da tenere d'occhio E dunque premio meritato secondo me per il rider del giorno numero 3 Superbike che dunque chiuderà i battenti di questa giornata 2020 a Astor Hill Tra due settimane così come la Supersport e la Supersport 300 La Supersport 300 è ancora l'unico titolo ancora in gioco La Supersport 600 invece con l'intermedio è stata già decisa Ma ci sono delle novità importanti È vero la prima gara la vince Andrea Locatelli Che fa ancora una volta la storia Vince 11 gare su 13 visto che nella seconda si è ritirato Però fa una cosa clamorosa perché non aveva mai corso in condizioni di bagnato in quest'anno E Locatelli dimostra ancora una volta di saperci fare e essere il dominatore di questa sezione Locatelli è veramente una spanna sopra tutti in questa categoria E proprio per lui si aprono le porte della Superbike per l'anno prossimo E si parla addirittura di Yamaha ufficiale di fianco a Rasgattioglu Seconda posizione per Lucas Maia che in contumaccia di Jules Clusel È l'indiretto antagonista di questo campionato del mondo Per quanto in questo momento la Supersport 300 non aveva più niente da dire Terza posizione per un pilota estone Hannes Sommer Che fa il primo podio in carriera in Superbike 600 A memoria credo sia il primo podio dell'Estonia in questa categoria Estonia che ha più tradizione negli sport realistici Basti pensare a Otanac, campione del mondo rally Nel 2019 Zomer tra l'altro replica il podio di gara 1 Anche in gara 2 con un sontuoso terzo posto Seconda posizione per Kyle Smith di cui parleremo dopo E prima posizione per Lucas Maia E dunque se in gara 1 ha suonato Fatale in Italia per Locatelli In gara 2 suona la Marsigliese per il pilota che in casa vince la prima gara della stagione E si toglie veramente una grande scimmia dalle spalle per non aver mai vinto in questa stagione Parlavamo di Maia e Clusel che erano gli antagonisti principali appunto di Locatelli Parliamo invece di Kyle Smith che è stato proprio lui a sostituire Clusel Causa infortunio e in 4 gare il pilota inglese ha fatto già due podi entrambi sul bagnato Segno che Kyle Smith è il mago della pioggia Ovviamente essendo un pilota inglese questi sono più favoriti Ed è un pilota che fino a 2 gare fa era a piedi E probabilmente potrebbero essere questi due podi il biglietto da vita per Kyle Smith Per ritornare in Supersport a tempo pieno Dopo che da un paio di stagioni sta vivacchiando in squadre probabilmente non all'altezza del talento del pilota Kyle Smith l'anno scorso ha vinto l'europeo Ma appunto questo campionato europeo di Supersport che corre insieme alla 600 mondiale Ha pochissimi avversari E una Supersport mondiale per il pilota inglese secondo me ci sta tranquillamente bene E vedremo se neanche Estoril potrà replicare le prestazioni di Manicur e Catalogna Al netto che non torni ovviamente Jules Clusel Mondiale della Supersport che comunque è già chiuso dalla gara scorsa Visto che Locatelli ha vinto il titolo del mondo E' ancora aperta invece la Supersport 300 La categoria leggera delle derivate della serie Con però l'allungo decisivo probabilmente fatto in gara 1 a Manicur Perché Jeffrey Buiz vince davanti al suo compagno di squadra Scott Rui Il diretto concorrente per il titolo E questa vittoria in gara 1 allunga ulteriormente il vantaggio del pilota olandese Che fa anche secondo in gara 2 Il podio di gara 1 lo completa Bahattin Sofoglu Che è il nipote di quel Kenan che stravinse e dominò per anni La categoria Supersport 600 Il podio di gara 2 invece lo completano con la prima vittoria in stagione Mark Garcia di cui per lui suona la marcia reale Mentre per Jeffrey Buiz suona Het Wilhelmus Seconda posizione proprio per Buiz Terza posizione per Hugo de Cancelis Pilota francese di Yamaha Che dunque corona la sua gara di casa con la terza posizione Di Mark Garcia c'è da parlare semplicemente perché E' il campione della Supersport 300 Quindi di questa categoria del primo anno in cui viene fondata questa classe Ovvero nel 2017 E anche lui è rompendo come Kyle Smith Era a piedi e fa anche lui il secondo podio in quattro gare E addirittura Magnycourt va a vincere una gara fondamentale Probabilmente per il proseguo della sua carriera Anche la Supersport 300 si ritroverà a Estoril Il vantaggio di Buiz su Deru è abbastanza consistente Considerato che ci sono soltanto due gare Ma attenzione perché nella Supersport 300 può succedere di tutto Il mondiale può perdere solo Jeffrey Buiz Pilota che era partito con una trentesima posizione Haerez e incredibilmente si ritrova in testa al campionato delle 300 E chissà che non possa coronare il sogno del primo titolo del mondo Della sua carriera E' un duello tutto olandese E' un duello tra due campani di squadra Perché entrambi corrono per il team MTM Motoport E vedremo come si risolverà a Estoril Intanto vi lascio con il podio della Superbike Con la classifica mondiale Jonathan Ray potrà chiudere facilmente a Estoril Il conto del titolo del mondo E celebreremo probabilmente in quel caso Il suo sesto titolo consecutivo Ai danni di uno scottrending Che ci ha fatto fino alla fine Anche se purtroppo ha pagato alcune gare Molto meno costanti Del cannibale nordilandese Jonathan Ray Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast sulla Superbike Il saluto da parte di Matthew Torger Ci vediamo domenica per il post-gara Grand Prix di Germania Formula 1 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti